Ciao, in questo video parliamo di tre distribuzioni fortemente legate a tre rispettivi ambienti desktop principalmente votati alla cura grafica e all'usabilità, Pantheon, Deepin e Cutefish. Sebbene tutti e tre i DE possano essere installati anche su altre distribuzioni Linux, in modo chi più e chi meno semplice e o completo, è innegabile che gli stessi diano il meglio quando precaricati sui corrispondenti sistemi operativi. Ma ne vale la pena? Partiamo con Elementary OS, una distribuzione Linux basata su Ubuntu LTS, quindi attualmente legata a RAMO 22.04 e sviluppata dallo stesso team che ha ideato Pantheon. Una caratteristica interessante del progetto Elementary è che ruota attorno al modello Pay What You Want. La distribuzione, infatti, può essere scaricata facendo una donazione oppure in modo completamente gratuito. Nonché le principali applicazioni distribuite tramite lo store integrato nell'OS, su cui torneremo tra un attimo, possono allo stesso modo essere supportate con una donazione a scelta dell'utente oppure recuperate senza costi aggiuntivi. In generale, il sistema operativo, l'ambiente desktop Pantheon e tutte le app che arrivano precaricate sono sviluppati e mantenuti da Elementary Ink, la quale ha ideato delle linee guida per la realizzazione di interfacce utente che si concentrano sull'usabilità immediata con una curva di apprendimento delicata, piuttosto che su una personalizzazione completa. Le tre regole fondamentali che gli sviluppatori si sono dati e che chiedono di seguire anche a chi sviluppa programmi di terze parti sono concisione, configurazione accessibile e documentazione minima. Questo significa che ogni applicazione, tra virgolette, certificata e sviluppata appositamente per Elementary OS, deve seguire questi principi in modo che il suo utilizzo sia semplice per l'utente, coerente tra app e app e non richieda documentazioni particolari per capirne il funzionamento. Pantheon, ed in generale tutto l'ambiente desktop con le relative applicazioni, è costruito sulla base dei toolkit di GNOME, come GTK, GDK, Cairo, GLib, compresi GeoObject e GIO, GVFS, Vala e Tracker. A partire da tali strumenti, tutto è profondamente integrato e le applicazioni progettate esistono sviluppate da Elementary Inc., includono Pantheon Grider, un gestore di sessioni basato su LightDM, Gala, un gestore di finestre basato su Matter, che è il window manager di GNOME, WingPanel, il pannello superiore simile nelle funzioni al pannello superiore di GNOME Shell, e Slingshot, un avviatore di applicazioni posizionato su WingPanel. Poi ci sono Plunk, cioè una dock personalizzabile che mostra le applicazioni preferite e quelle in esecuzione, Switchboard, un'applicazione per le impostazioni di sistema che fa da pannello di controllo generale, più tutta una serie di utility, tra cui Mail, un client di posta elettronica scritto in vala e basato su WebKit GTK, Calendar, Music, Code, un editor di testo paragonabile a G-Edit o LeafPad, il Terminale, Files, cioè il gestore di file, l'Installer, costruito in collaborazione con System76, Foto, Video e Camera per gestire le webcam. Lo store, chiamato AppCenter, da cui è possibile recuperare nuove applicazioni ed installare gli aggiornamenti di sistema, offre esclusivamente applicazioni, tra virgolette certificate, cioè che seguono le linee guida di ElementariOS. Con gli ultimi aggiornamenti, AppCenter integra anche la gestione dei pacchetti Flatpak, ma il primo download degli stessi deve essere avviato dal repository di appartenenza, come FlatHub. Una volta scaricato ed installato un Flatpak, il suo repository viene integrato in AppCenter in modo che gli aggiornamenti della specifica app possano essere gestiti da lì, ma appunto il primo passaggio deve essere fatto al di fuori dello store, il che non è comodissimo. Dopodiché, visto che ElementariOS si basa su Ubuntu LTS, anche se non include Snap che si può essere installato a mano dall'utente ma non sarà gestito graficamente dallo store, è possibile accedere a vari repository DEB di Canonical. Per farlo occorre però utilizzare il terminale, perché neanche essi sono integrati nell'AppCenter. In sostanza, ElementariOS spinge principalmente per le proprie applicazioni anche se l'utente può aggiungerne di altre via Flatpak, Snap, AppImage, pacchetti DEB e via discorrendo, purché lo sappia fare in autonomia. Detto ciò, ElementariOS nasceva inizialmente come un insieme di temi ed applicazioni per Ubuntu e soltanto in seguito è diventato una vera e propria distribuzione pur mantenendo, come detto, le sue fondamenta nell'OS di Canonical. Nelle prime versioni di ElementariOS non c'era neanche l'AppCenter e veniva utilizzato il software center di Ubuntu per gestire l'installazione e la disinstallazione dei pacchetti. La fondatrice del progetto, Danielle Fore, ha dichiarato che ElementariOS non è stato concepito per competere con gli altri progetti open source esistenti, ma per ampliarne la portata. Ed ElementariInc, infatti, cerca di creare occasioni di lavoro nel mondo open source attraverso quelli che potremmo definire compiti, cioè incarichi remunerati che possono essere completati da sviluppatori indipendenti. Già nel 2016 erano stati raccolti oltre 17.500 dollari per portare a termine alcuni di questi compiti. Comunque, la versione 0.1 Jupiter, la prima stabile di ElementariOS, è stata pubblicata a fine marzo 2011 ed era basata su Ubuntu 10.10. A seguire, due anni dopo, ad agosto 2013, è arrivata la 0.2 Luna, switchando il core su Ubuntu 12.04 e segnando definitivamente il passaggio alle sole versioni long-term support dell'OS di Canonical. La versione 0.3 Freya, basata su Ubuntu 14.04, è stata distribuita a partire da aprile 2015 e con il suo rilascio, ElementariInc ha festeggiato oltre 1.2 milioni di download dell'OS. A quanto pari, il 73% dei download di Freya proveniva da sistemi operativi closed source, un dato sicuramente interessante. Nel 2015 gli sviluppatori di ElementariOS hanno modificato la pagina di download della distribuzione in modo da impostare di default la richiesta di un importo monetario per poter avviare il download. Seppur l'utente potesse indicare il valore 0 e quindi continuare a scaricare gratuitamente ElementariOS, tale scelta ha scatenato varie polemiche nella comunità Linux. Il team di ElementariOS ha però difeso l'azione affermando che circa il 99.8% degli utenti scarica il suo sistema senza pagare ed era necessario fare qualcosa per continuare a garantire un supporto diretto allo sviluppo della distribuzione. Con la versione 0.4 Loki c'è stato il cambio più grande, era settembre 2016 e Loki è stata costruita con base Ubuntu 16.04 ed il suo kernel 4.4, rinnovando gran parte delle aree del sistema operativo ed aggiungendo diversi nuovi software come un nuovo browser web, nuovi client di posta elettronica ed un nuovo calendario. Ma soprattutto è con questa versione che è arrivato l'App Center, sostituendo il Software Center di Canonical e distribuendo oltre 9.000 dollari agli sviluppatori che hanno collaborato al suo sviluppo. A quel punto l'OS era ormai maturo e così la successiva versione, ribattezzata 5.0 Juno spostando il versioning da minor a major release, è stata distribuita da ottobre 2018 con base Ubuntu 18.04. Le principali novità introdotte erano la funzione Nightlight per cambiare il colore dello schermo di notte, nonché nuove features per Pantheon e per le sue principali app. L'aggiornamento includeva anche la nuova funzione Housekeeping per la pulizia automatica del sistema dopo un determinato intervallo di tempo. Juno è stata scaricata in pochissimo tempo oltre 160.000 volte, con l'1% delle persone che ha scelto di pagare per supportare il progetto. Durante il ciclo di vita di Juno, inoltre, il sistema ha iniziato a supportare Flatpak, rendendo così più semplice l'installazione di software distribuito in questo formato. La versione 5.1 era si è invece concentrata sul perfezionamento dell'esperienza utente, sul miglioramento delle prestazioni e sull'introduzione di nuove funzionalità. La base Ubuntu, dunque, non è cambiata e gli sviluppatori si sono concentrati sul miglioramento delle prestazioni e sull'ottimizzazione dell'uso delle risorse. Uno degli obiettivi principali di ERA era proprio quello di rendere Elementar iOS ancora più reattivo. Il design generale, poi, è stato ulteriormente perfezionato dando vita ad un aspetto più curato e coerente in tutto l'OS, ed il file manager Files è stato oggetto di grandi attenzioni. Inoltre, il team ha introdotto un menu applicazioni rinnovato, rendendo più facile la navigazione nella ricerca del software installato. Ad agosto 2021 giungeva il momento della versione 6.0 Odin, basata su Ubuntu 20.04, che ha introdotto il supporto ai temi scuri e la possibilità di cambiare il colore degli accenti, nonché una miglior gestione delle notifiche con il relativo nuovo centro notifiche, gli account online, i gesti multitouch, un installer completamente rinnovato, un'app per l'aggiornamento del firmware e tanto altro ancora. Invece, la versione 6.1 Jolnir di dicembre 2021, una minor release sempre basata sulla stessa versione LTS di Ubuntu, è stata accompagnata da alcuni stravolgimenti interni ad Elementar Inc. Dato che il modello Pay What You Want non stava portando entrate sufficienti e dopo alcune diatribe legali tra i due cofondatori, Cassidy James Blade ha deciso di vendere il 100% delle sue azioni a Daniel Foret, e anche il direttore finanziario Liz Kesko ha lasciato l'azienda. Il progetto sembrava navigare in cattive acque, ma nonostante ciò a gennaio 2023 è arrivato l'Elementar OS 7.0 Horus con tante novità per l'App Center, nuove funzionalità ed impostazioni ed un grande focus sulla piattaforma per gli sviluppatori. Questa versione ha anche fatto il salto ad Ubuntu 22.04 RTS. Alla fine, ad ottobre 2023, è arrivata anche la versione 7.1, nuovamente una minor che ha persino mantenuto lo stesso codename della precedente in attesa di rinnovamenti più importanti previsti per la futura 8.0. La versione 7.1 è incentrata principalmente sul rendere l'OS più inclusivo ed accessibile, aumentare la protezione della privacy ed apportare oltre 200 correzioni di bug. Ad oggi, Elementar OS rimane un sistema visivamente appagante, curato, fortemente coerente, con applicazioni semplici da utilizzare e davvero ben realizzate. Ma tutto ciò fa parte di Pantheon, l'ambiente desktop che è costruito sopra la base Ubuntu LTS. Come distribuzione, Elementar non offre cose in più rispetto ad Ubuntu, se non, tra virgolette, nasconderne i suoi repository ed eliminare gli snap. Non c'è neanche un repository custom di Elementar Inc. Pantheon e le app sono distribuite tramite PPA. Oltretutto, a differenza della distro madre di Canonical, Elementar OS obbliga l'utente a reinstallare da zero il sistema operativo ad ogni nuovo rilascio, poiché non è presente un tool che ne consenta la migrazione. Ha quindi senso Elementar OS come distribuzione Linux, Pantheon e le sue app hanno poca compatibilità con altre distro, quindi per utilizzare tale IDE, così come viene ideato, si è praticamente costretti ad usare Elementar OS. Deepin, precedentemente nota come Deepin Linux o iWid Linux, è una distribuzione basata sul ramo stable di Debian, ma Deepin è anche il nome dell'ambiente desktop usato nella distribuzione stessa. A differenza di Pantheon, che come detto si basa sul toolkit GTK, il Deepin Desktop Environment è costruito sulle Qt e, sempre a differenza di Pantheon, è invece ampiamente disponibile per diverse altre distribuzioni Linux. Se si parla dell'OS, Deepin, essendo sviluppato in Cina, è utilizzato prevalentemente in Oriente. Se ci si riferisce invece al DE, esso è presente nei repository delle principali distro o ne esistono versioni delle stesse con tale IDE impostato di default. È ad esempio possibile averlo su Ubuntu, Arch o Fedora, giusto per citarne alcune. La società dietro il suo sviluppo, Deepin Technology, è una filiale interamente controllata da Union Tech con sede a Wuhan in Cina. Il progetto è nato nel 2004 con il nome iWid Linux. Poi nel 2011 il team di sviluppo ha fondato la società Deepin Technology per supportare lo sviluppo commerciale dell'OS, e l'azienda ha ricevuto diversi investimenti commerciali già dallo stesso anno. Nel 2015 è entrata a far parte della Linux Foundation, mentre nel 2019 Huawei ha iniziato a distribuire laptop Linux con Deepin preinstallato. Esattamente come ElementarOS, anche Deepin ha un suo software center, ma oltre a ciò ha anche un proprio gestore di pacchetti, chiamato Linglong, sebbene l'utente possa continuare ad utilizzare APT sfruttando i repository di Debian più quelli proprietari di Deepin. Linglong nasce con l'obiettivo di risolvere i problemi di compatibilità causati dai complessi formati dei pacchetti e dalle dipendenze incrociate in Linux, nonché di ridurre i rischi per la sicurezza causati dal controllo decentralizzato dei permessi. Linglong gestisce le applicazioni, il runtime e gli ambienti di sistema a strati, separa le dipendenze in esecuzione delle applicazioni e costruisce un runtime universale. Fornisce anche un meccanismo per evitare dimensioni troppo grandi dei pacchetti e cattive prestazioni. Inoltre, per l'esecuzione delle app viene utilizzato il meccanismo di containerizzazione Sandbox che isola le applicazioni dal sistema sottostante. I privilegi di root della Sandbox sono limitati per impostazione predefinita così da evitare che le applicazioni ottengano privilegi di root e possano danneggiare il sistema o i dati dell'utente. In termini di distribuzione del software, Linglong supporta la distribuzione incrementale online tramite OS3, ma sopporta anche la distribuzione offline con pacchetti in formato bundle. Stando ai rapporti dell'azienda, a dicembre 2022 l'OS contava più di 3 milioni di utenti in tutto il mondo, con una disposizione 33 lingue e più di 80 milioni di download a partire dal 2008, quando il progetto è stato rinominato in Deepin da iWid Linux. In quello stesso momento, il sistema passava anche dalla base Ubuntu a Debian e da GNOME al Deepin Desktop Environment. Oltre a DDE, detto anche Deepin DE, la distribuzione è anche un proprio window manager, chiamato DDE-KWin. E poi ci sono tutta una serie di applicazioni custom, un po' come succede in elementari OS, che sono studiate per riprendere ed unificare lo stile e la grafica dell'OS. Tale applicazioni sono costruite tramite il DTK, o Deepin Toolkit, che si basa su C++ e sul framework Qt. E sono una marea, dall'installer al file manager, dal system monitor al gestore di pacchetti, e poi c'è tutta una serie di strumenti per gestire font, registrare la voce, catturare screenshot o registrare lo schermo, il terminale, il visualizzatore di immagini e foto, il riproduttore musicale e video, la stampa da remoto, il calendario, l'assistenza remota, la calcolatrice, l'editor di testo, e via discorrendo. Gran parte di queste applicazioni sono anche disponibili stand-alone nei repository di altre distribuzioni, al di là di DDE. Nel 2018 Deepin è stata accusata di contenere spyware e software di analisi dei dati dell'utente all'interno del suo App Store, ma l'azienda ha rilasciato una dichiarazione ufficiale con cui ha chiarito che non utilizza strumenti di raccolta di informazioni private degli utenti. Secondo Deepin, la raccolta avviene in modo anonimo e serve per rilevare principalmente dati come dimensione e risoluzione dello schermo, il browser web in uso ed altri dati di tale natura, al fine di capire come venga utilizzato lo store, così da poterlo migliorare. Dopodiché a luglio 2018 Deepin ha rimosso i tool di analisi dal sito web dell'App Store di Deepin, mentre sono rimasti quelli all'interno dell'applicazione equivalente. La preoccupazione in alcuni paesi occidentali è, al solito, quella che le analisi raccolte da Deepin possano essere inviate al governo cinese. Secondo alcuni esperti in cybersicurezza, a causa delle dimensioni della base di codice di Deepin è impossibile esaminare veramente tutto il codice che compone il sistema, così da essere sicuri che il governo cinese non abbia delle backdoor in esso. Il progetto rimane comunque completamente open source, permettendo a chiunque di rivedere, modificare o cambiare il codice. Al di là di questi aspetti, Deepin come sistema operativo rimane fortemente rivolto ad un pubblico orientale. L'interfaccia stessa, ad esempio nello store, pur tradotta in tante lingue, presenta spesso descrizioni e testi in cinese, e vengono in primo luogo proposte applicazioni molto utilizzate in Cina e meno da queste parti del mondo, ma in generale è proprio lo stile della UI e le funzioni offerte a strizzare l'occhio ai gusti cinesi. DDE, così come in parte Pantheon, ricorda molto macOS, trad-hoc, l'equivalente di Spotlight ecc, miscelato con Chrome OS. Tutta l'interfaccia è molto colorata e ricca di effetti grafici e per questo motivo è anche un po' pesante rispetto ad altri ambienti desktop. A differenza di elementari OS, però, Deepin è un sistema decisamente più custom, con strumenti dedicati e pensati per offrire un'esperienza integrata a 360 gradi, c'è persino la possibilità di creare account personali. In più, l'azienda sta lavorando per introdurre funzionalità di intelligenza artificiale. Il fatto che il sistema sia rivolto principalmente al mercato cinese lo rende poco attraente al pubblico occidentale, però DDE è disponibile per tante altre distribuzioni, ben più diffuse qui da noi, cosa che rende possibile utilizzare tale desktop environment senza dover necessariamente utilizzare l'intera distribuzione. Ed un discorso simile, anzi più estremo, può essere fatto per Catfish OS, una distribuzione attualmente basata su Ubuntu 22.04 nata esclusivamente per fare da Showcase a Catfish DE, l'omonimo ambiente desktop. Catfish OS era sbucato fuori dal nulla nel 2021 su base Ubuntu 21.04, dopo che l'ambiente desktop era apparso sui repository di Arch Linux. Dopo pochi mesi il sistema si è spostato dapprima su Ubuntu 21.10 e poi su Debian 11, arrivando alla versione 0.8. Il progetto, allora ancora in beta, è stato abbandonato per poi essere ripreso quest'anno, nel corso dell'estate, su base Debian 12. Alla fine, anche grazie all'aiuto di un team di Deepin, la divisione Yo-Yo, Catfish OS Reborn è tornato su base Ubuntu 22.04, pur rimanendo ancora in forte sviluppo e chiaramente ancora in beta. Catfish DE è costruito con Qt Quick ed è un richiamo diretto a macOS e Chrome OS. Sebbene non sia un clone 1 a 1 della famosa interfaccia di Apple né di quella di Google, la ricorda moltissimo, soprattutto quella della mela morsicata. Non manca infatti la dock configurabile che mostra le applicazioni preferite e quelle in esecuzione, c'è il menu globale che racchiude i menu delle app attive e varie altre parti del sistema somigliano a quelle del sistema operativo di Apple. Qt Fish però non è assolutamente pronto per le masse, ma lo si può provare sia tramite Qt Fish OS che tramite altre distribuzioni. Il DE è infatti presente ad esempio sui repository di Arch Linux o Mangiaro, ma anche altrove. Detto ciò, Qt Fish non ha molti software in dotazione e quelli che ci sono sono presi in prestito da altri ambienti desktop, con al più il decoratore di finestre che ne unifica l'esperienza visiva ed uso. Troviamo Firefox e Thunderbird, l'editor di testo Kate, il terminale, il riproduttore multimediale Elisa affiancato da VLC, uno strumento per le impostazioni di sistema e quello per il monitoraggio, l'editor di testo Pluma, c'è la suite d'ufficio WPS, Telegram e Discord già integrati, e via discorrendo. Ma, come detto, sono tutte applicazioni già presenti in altri OS e su altri DE, come Gnome o KDE, qui al più raffigurati con icone custom. Vista la forte vicinanza con il team Deepin, è facile ipotizzare che un'eventuale espansione della distribuzione Qt Fish OS Reborn con Qt Fish DE preinstallato possa essere pensata in primis per un pubblico orientale. Alcune app precaricate hanno persino testi e descrizioni in cinese, così come è presente un software center custom chiamato Spark Store che presenta tantissime app in cinese o principalmente utilizzate in Oriente. Ma Qt Fish DE, ancor più di Deepin DE o Pantheon, nasce per essere installato su tante distribuzioni e non necessariamente su OS dedicati. Quindi, se il progetto riuscirà a proseguire, probabilmente andrà ad aggiungersi ai tanti ambienti desktop già esistenti nel mondo del pinguino, come Gnome, KDE, Cinnamon, Mate, Xfce, Bagi, LXQT, Unity, e via discorrendo. Ricapitolando, Pantheon è l'ambiente desktop di Elementary OS, nasce e viene sviluppato principalmente per tale distribuzione anche se, in un modo o nell'altro, potrebbe essere eseguito anche altrove, seppur con risultati vari. Il progetto Elementary è portato avanti da Elementary Inc., che si prefigge di incentivare il lavoro nel mondo dell'open source con ingaggi per il completamento di specifici compiti, nonché spinge per il modello pay what you want in modo da rendere più facile il supporto al lavoro degli sviluppatori. Il sistema si basa su Ubuntu LTS, dando forte priorità ad una propria visione che è fondata su tre principi fondamentali concisione, configurazione accessibile e documentazione minima. Quello che ne risulta è un sistema decisamente piacevole esteticamente e molto semplice da usare, il cui punto di forza rimane però principalmente Pantheon stesso. Deepin, al contrario, è un sistema operativo molto più opinionato e sicuramente rivolto in primis al mercato cinese. DDE, l'ambiente desktop sviluppato da Deepin Technology che segue la distribuzione omonima, è nato per supportare l'evoluzione dell'OS, ma allo stesso tempo viene anche distribuito per diverse distro Linux, rendendone di fatto molto semplice l'utilizzo, anche per gli utenti occidentali. Deepin, un po' come Elementary OS, ha una propria visione di come deve essere organizzato un sistema operativo e la sua interfaccia, seguendo proprie linee guida ed offrendo un toolkit, chiamato DTK, per la realizzazione di applicazioni pensate per essere coerenti con il resto dell'ambiente. Non è forse particolarmente consigliato l'uso di tal OS in questa parte del mondo, ma il fatto che il DDE sia disponibile anche altrove ne consente l'utilizzo anche qui senza particolari grattacavi, con l'unico requisito di avere un computer con prestazioni adeguate. Visivamente DDE è un incrocio tra macOS e Chrome OS. Infine, Qtfish, il più recente tra i 3 desktop environment visti in questo video, è prima di tutto un ambiente che può essere installato su varie distribuzioni. Per rendere più facile lo sviluppo nonché pubblicizzarlo, è stata creata una distribuzione omonima che però, assieme al di è stesso, ha recentemente visto uno stop. Dopo un periodo di inattività, il progetto è rinato con Qtfish OS Reborn grazie al supporto di Deepin con la sua divisione di staccata chiamata YoYo. Qtfish OS non ha probabilmente molto senso come distribuzione a sé, poiché è basato su Ubuntu e serve esclusivamente come base per mostrare gli avanzamenti dell'omonimo ambiente desktop, il quale, ancora in forte fase di sviluppo, strizza molto l'occhio a macOS, con tanto di sezioni equivalenti per ognuno degli elementi cardine dell'OS di Apple, come Dock, Spotlight, Launchpad, Global Menu e via discorrendo. Non ci sono molte app precaricate e quelle che ci sono sono tra virgolette prese in prestito da altri ambienti. Tu che ne pensi? Ti attirano questi ambienti dei desktop? Utilizzeresti le rispettive distribuzioni? Oppure vorresti averli disponibili per quella da te già utilizzata? Ti aspetto nei commenti. Nei prossimi giorni arriveranno nuovi video su altre distribuzioni, se questo ti è piaciuto iscriviti al canale e soprattutto fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi delle interfacce utente che strizzano l'occhio all'OS della mela morsicata. Se hai richieste riguardo altre OS Linux-based oppure altri argomenti legati al mondo del pinguino per cui vorresti vedere un video dedicato, non esitare a farlo sapere con un commento qui sotto. È tutto per questa puntata, a presto!